Siamo 42 donne che vogliono testimoniare che se anche la malattia ci ha tolto qualcosa, non ci ha tolto la nostra femminilità. Continuare a sentirsi donne belle e femminili nonostante il cancro, tornare a sorridere mostrando la straordinaria forza di affrontare una diagnosi di tumore al seno e le cure senza perdere il coraggio di lottare. Torna la forza in passerella, terza edizione della sfilata delle donne malate di tumore. 42 donne dai 28 ai 73 anni sfileranno al teatro Duse di Asolo sabato 14 maggio. Tornerà a sfilare anche Romina Barolo, la modella che l'anno scorso ebbe il coraggio di togliersi la parrucca, ora i capelli sono ricresciuti, ma Romina torna con quelle che sono diventate sue amiche. La sensazione e l'emozione che ho provato io l'anno scorso di coinvolgimento e di unione, soprattutto di unione e di forza che abbiamo noi nell'affrontare questa malattia e soprattutto che insieme è veramente più facile ad affrontare tutto questo. Un evento che richiama all'importanza della prevenzione anche perché purtroppo la pandemia rischia di lasciare un altro pesante lascito in termini di diagnosi in ritardo. Il tumore della mammella che riguarda una donna su 8, di quelle che sviluppano una malattia, purtroppo 2 su 10 ancora non ce la fanno, impone un controllo alle donne che stanno bene, devono controllare per loro stesse la loro salute perché si può curare e guarire quasi sempre, basta trovarlo in tempo utile. Con la pandemia attualmente i dati pubblicati da Cittadinanza Attiva qualche giorno fa ci dicono che il tempo d'attesa per avere una mammografia è di due anni e l'impegno, l'invito alle donne comunque si facciano controllare.